Melanie Daniels Rocace ragazzona anglosassone commessa in un negozio di piccoli e vari animali raggiunge Bodega Bay in una cittadina nel nord della California per consegnare a Mitch Brenner un baldo giovanottone col quale ha iniziato un flirt due allegri lovebirds e gli uccellini dell'amore belli, carini regalo per la sorella minore Katie sorella di Mitch senza alcuna ragione apparente degli stormi di uccelli iniziano ad attaccare e uccidere la popolazione il cielo si avventa sulla terra e qualcuno tra una fuga e l'altra si chiede ma perché lo fanno? cioè cerchiamo magari di capire che cosa è successo così tanto per passare la serata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti